sì buongiorno buongiorno a tutti in occasione di fare i conti con l'ambiente Ravenna 2023 sedicesima edizione siamo in compagnia di una B2E che ha accompagnato e accompagna l'evento Ravennati dalla sua prima edizione Umberto Torelli giornalista del Corriere della Sera esperto di tecnologia ma non solo ciao Umberto buongiorno e benvenuto ciao a tutti buongiorno eccoci qui ancora una volta ecco Umberto ricordiamo che l'evento è patrocinato e organizzato dalla Belab che è la piattaforma multicanale per la green and circular economy allora Umberto con te trattiamo sempre tematiche come dire di strettissima attualità ecco in questo incontro parliamo di un tema che sta tenendo banco nel mondo che è quello dell'intelligenza artificiale o AI cioè artificial intelligence ecco io partirei un po da questo e so che tu peraltro hai preparato delle slide partendo anche dalla storia cioè da quando e come è nata l'intelligenza artificiale a te la parola grazie va bene sì come hai detto tu praticamente è l'argomento che tiene banco nell'itec mondiale perché come avrete notato l'argomento precedente era il metaverso che di fatto dal periodo natalizio è sparito non c'è più adesso siamo sul discorso intelligenza artificiale e soprattutto su questo chat GPT che è veramente una rivoluzione in ambito come dire non solo della scrittura ma io partirei subito con un cenno come dire veloce di tipo storico perché non fa mai male allora questo termine è stato cognato nel 56 negli usa da tre guru che sono poi quelli che in qualche modo hanno per così dire inventato e dato le basi di tutto quello che è il calcolo computazionale del computer McCarthy Misty e Shannon loro hanno creato le basi e la prima idea di questa intelligenza artificiale ma soprattutto avevano già pensato alla luce dei primi calcolatori come li chiamavano elettronici di fare degli elementi legati per così dire a reti neurali quindi reti che comunque erano ispirati alle reti di tipo biologico quindi umano qui però dobbiamo fare faccio subito quella che chiamo una precisazione doverosa perché questo termine intelligenza in effetti come dire è fuorviante perché all'inizio fu usato ma non si pensò che l'intelligenza come poi l'avremmo intesa noi tutti gli utenti e non gli scienziati rimane assolutamente una chiamiamola così specificità umana e come è nato per così dire questo equivoco e è nato perché l'intelligenza che come dire intendevano loro tre e diciamo i primi inventori è l'intelligenza più riferita all'intelligenza per darvi l'idea della cia central intelligence agency cioè è l'accezione in cui con intelligence inglese si intende una raccolta e una selezione molto ampia di dati e all'inizio ma non solo all'inizio anche adesso perché poi vedremo i numeri si tratta di grandissimi elaboratori che oltretutto collaborano insieme quindi sono server sparsi a livello mondiale e che vanno proprio a fare un pescaggio e una selezione di dati allora anche noi ormai usiamo il termine intelligenza artificiale ma ricordate bene che non è l'intelligenza umana perché allora diciamolo subito l'intelligenza umana l'intelligenza umana arriva innanzitutto da i due milioni e mezzo quasi di anni che sono passati dalla comparsa dell'homus habilis sulla terra quasi due milioni dell'homus erettus quindi finalmente la capacità dell'uomo di stare in piedi e di vedere nella savana tutti i nemici che arrivavano e poi dal sapiens quindi noi che siamo arrivati duecentomila anni fa circa questa è la data che viene accettato ormai da tutti quindi fra l'altro vi do un altro numero che invece viene citato poco sappiate che dalla presenza del sapiens nelle prime savane africane quindi sulla terra hanno transitato sul pianeta più di 105 miliardi di uomini cioè fra nascita e morti l'equilibrio ha portato a questo numero immenso e l'intelligenza come l'intendiamo noi deriva anche da tutto il sistema come dire culturale sociale il villaggio globale iniziale quindi tutto quello che l'uomo ha costruito ripeto quindi ricordiamoci bene allora questa diversità nel parlare di intelligenza umana e artificiale e allora torniamo alla I e l'intelligenza artificiale permette e consente ai computer di eseguire dei compiti meglio dell'uomo è vero alcuni compiti ma attenzione dei compiti molto precisi allora comprendere linguaggi lo vedremo dopo nelle applicazioni scelte è assolutamente un campo in cui la I va alla grande come è leader nel riconoscere immagini e analizzare dati cioè se io faccio una foto prima di capire e prima di inviarla a un database in cui va a pescare i milioni di foto simili per dirmi chi è quel tipo e l'uomo ce ne metterebbe di tempo questa è un'operazione che sistemi come vediamo dopo di AI fanno in secondi quindi qui è proprio vero che l'intelligenza artificiale come dire va proprio a superare l'uomo e come abbiamo detto prima come fa a lavorare come opera l'AI e opera utilizzando migliaia di algoritmi avanzati avanzatissimi che vanno a fare questo pescaggio in immense banche dati ma la cosa nuova che è avvenuta negli anni è che le informazioni che sono state acquisite creano poi le basi per le successive cioè si va a operare con quello che chiamiamo il deep learning cioè quello che analizza in questo momento la AI a una mia domanda a una mia richiesta finisce in questa ecco perché qui l'intelligenza diciamo ci sta l'intelligenza collettiva del computer che fa in modo che lui apprenda perché la vera novità del deep learning è l'apprendimento quindi questo è quanto sta avvenendo adesso e quanto ci dobbiamo aspettare per il futuro A proposito di apprendimento Umberto che ruolo ha avuto nello sviluppo il matematico Alan Turing? Allora Alan Turing è stato sicuramente un personaggio geniale un precursore di tutto questo allora ricordiamo che lui è poco riconosciuto rispetto a altri e poi capiamo anche perché è poco riconosciuto anche se a lui va un merito incredibile Turing che è nato nel 1912 e morto nel 54 deve tutta la fama iniziale al fatto che lui era un matematico allora non esistevano informatici ma lui era un matematico e una delle prime persone che ha studiato la criptografia anche qui criptografia se andiamo a cercare è l'arte di inserire delle informazioni in un contesto quindi formazione in chiaro in un contesto che invece sembra una frase grande è un immenso testo e l'abilità è che poi le informazioni criptografate vanno decriptografate e qui Turing è riuscito in quella operazione che è praticamente diciamolo chiaro nel 44 ha fatto come dire anticipare la fine della guerra perché lui con il suo team sono stati come dire scritturati dalla dalla marina e dell'esercito britannico e hanno decifrato Enigma Enigma era quello scatolone pieno di manopolote che utilizzavano sulle navi e in prima linea per decifrare tutti i messaggi e tutte le informazioni che arrivavano direttamente dalla dalla Germania tutto questo merito del lavoro Turing insieme agli altri del team non ha potuto in nessun modo rivendicarlo perché avevano firmato quello che si chiama l'agreement cioè avevano firmato di non rivelare mai nulla di tutto questo lavoro e non solo lui purtroppo alla fine della guerra venne duramente condannato e ripreso per la sua omosessualità e non riuscì a superare questo trauma sostanzialmente fu messo di fronte al al dilemma non semplice castrazione chimica o prigione e lui alla fine si è suicidato come dire una perdita incredibile poi il governo si scusò ma ormai le cose e la frittata l'avevano fatta perché l'altra grande come dire occasione che lui ha avuto di lasciare un bel segnale nell'informatica è il famoso test eccolo qui cos'è il test di Turing valido a tutt'oggi anche se c'è qualche come dire controversia fra gli scienziati su come interpretarlo ma il test di Turing che a tutt'oggi come dire non è ancora stato completamente superato è molto semplice nella descrizione cioè ci sono tre camere tra loro non comunicanti un umano che è C pone le domande vedete A, A e B che sono in due camere diverse quindi la stessa domanda ovviamente lui non sa dove è A e dove è B cioè dove è l'umano e dove è il computer e il test è superato quando C sarà in grado di capire dove si trova il computer e dove si trova l'uomo quindi sostanzialmente questo come dire è una prova che rivela l'identità quindi è la capacità del computer e dell'uomo di rispondere alla stessa domanda la curiosità è che sembra che all'inizio tanti anni prima lui l'avesse pensato per come dire per porre la domanda un uomo e una donna ma questo non è non è confermato quindi qui vi consiglio nel caso avete la voglia di andare su uno dei tanti streaming e fu fatto un bellissimo film da imitation game che racconta tutta la storia tanto per passare come dire una serata certo e sapere qualcosa di più due grandi attori due grandi attori senti Umberto ma è vero che in realtà già da tempo noi usiamo la I nella nostra vita quotidiana? è assolutamente è vero e qui siamo di fronte a quello che viene chiamato e anche io chiamo l'intelligenza artificiale invisibile perché noi è ben da tempo che ogni giorno usiamo sistemi di AI come dire per le applicazioni per i lavori più disparati e sono sistemi che come abbiamo detto prima la macchina il computer quindi queste piattaforme per usare il termine che è di attualità utilizzano e quali sono e guardate già questi che vi ho elencato qui sono quelli come dire più sicuri più usati tutte le ricerche avanzate sul web tutto il discorso del riconoscimento vocale dei vari Siri Alexa tutto l'utilizzo che ne fa Amazon per il delivery per la consegna cioè non è che è una roba danale questi ogni giorno mandano nel mondo milioni di pacchi in poche ore anche Netflix lo utilizza per capire quali sono i nostri gusti nel vedere dei film delle serie tv sul discorso security è già in stato come dire super super avanzato di controllo e adesso è uscito il discorso di chat GPT e poi eccolo qui questo sicuramente dove avanzatissimo è il riconoscimento vocale e facciale qui vedete due personaggi ben noti come dire siamo ormai a un livello di precisione in cui non solo si identifica la persona il signor Zuckerberg che qui è beccato al volo ma soprattutto si i sistemi riescono già a capire anche cioè sei felice sei arrabbiato sei disgustato sei tutto quello che è il tuo stato d'animo e sapete non è una cosa da poco perché c'è qualcuno che non solo sa chi sei ma sa in che stato come ti trovi per così dire cosa fai poi l'altra grande applicazione che è sotto gli occhi di tutti è la guida autonoma argomento sempre in prima linea siamo in attesa del livello 5 il livello 5 è quello in cui saliremo in macchina apriamo un libro devo dire soltanto portami da A a B fine la macchina fa tutto e guida qui non ci sono tempi perché ogni volta che sembra di essere vicini alla meta come dire il tempo va allungarsi un pochettino e questi sono soltanto due perché poi vi dico velocemente la I è onnipresente cioè ci vede e la visione artificiale migliora col machine learning e il riconoscimento immagini come abbiamo detto non solo ci vede ma ci analizza perché processando miliardi di dati questi poi vanno a finire in finanza, security, ricerche, web quindi ormai è inutile negarlo ci fanno la schermografia ogni giorno che entriamo in rete e poi è onnipresente cioè ascolta tutto ascolta voce riconoscimenti linguaggi tutte interfacce per i nuovi dispositivi sapete che col web 3.0 tutti i dispositivi digitali ormai hanno sensori che eseguono questi monitoraggi la I li decripta cioè li riesce a decifrare e anche qui il consiglio voglio dire anche antipatico perché a questo punto i vende, i commercianti usano la I per tracciare e prevedere gli acquisti dei consumatori se dalla mia faccia riesci a capire se sono contento o meno per un regalo ricevuto per un acquisto fatto ormai come dire non ho scampo siccome il tempo è tiranno vediamo i pericoli parliamo anche di chat GPT e quindi pro e contro abbiamo ancora due minuti e mezzo quindi devo purtroppo andiamo veloci allora i pericoli sono pericoli nella security perché avremo meno privacy nella vita quotidiana e questo lo sappiamo tutti e anche nel lavoro perché poi vedremo che si stanno già creando forti squilibri e come dire ci sono nuovi skill e lavori che l'intelligenza artificiale sostituisce soprattutto i ripetitivi eccolo qui chat GPT che è l'argomento come dire del giorno chi non l'avesse ancora usato basta che si collega a questo indirizzo chat.openai.com con la registrazione di Google o una registrazione velocissima si accede quindi si hanno le credenziali e nella barra qui di sotto si mette la domanda quindi la chat inizia e si chiede al sistema è un sistema di quelli che si chiamano intelligenze artificiali conversazionali questo nome lungo dice che fanno conversazione e io l'ho provato da gennaio appena è stato quasi disponibile per tutti e il sistema effettivamente è notevolissimo cosa fa? PRO genera test in modo veloce è ideale per creare chatbot e contenuti quindi qui anche il mondo e soprattutto il mondo della scuola si deve un attimo rivedere perché questo fa le ricerche in velocità ipersoniche e non solo e scrive anche bene personalizza le risposte io gli posso dire scrivimi 200 parole su Giosuè Carducci e lui si mette lì in meno di un minuto insomma tempi da record e poi è accessibile dal cloud e quindi in qualsiasi momento in qualsiasi posto io rivedo tutto quello che gli ho anche chiesto e il contro il contro è immediato è un modello di addestramento con miliardi di testi su internet quindi attenzione alla disinformazione si dice che a tutt'oggi c'è la versione 4 e uscirà poi la 5 perché qui è un continuo andare avanti il come dire il livello di pescaggio di dati parole è su 180 terabyte quindi sono 180 milioni di milioni e voi capite che quando gli chiedo qualsiasi cosa questo essendo così veloce mi da subito la risposta sempre sotto forma di chat e l'altro impatto negativo è sull'apprendimento e qui potremmo fare un'altra come dire un'altra riunione solo per capire come i ragazzi con un utilizzo allora non si può negare dire a scuola non usatelo perché tanto a casa ce l'hanno bisognerà e questo è il lavoro prossimo e non semplice degli insegnanti capire come usarlo e anche questo è un punto importante i testi sembrano scritti da umani e purtroppo lui non dà mai le fonti e i copy quindi anche questo non è sì sappiamo che google con bardo sta dando cercando di dare una risposta quindi le altre big tech non stanno certamente a guardare però ecco siccome queste nostre conversazioni digitali sono anche propedeutiche appunto fare i conti con l'ambiente in ambito sostenibilità ambientale mondo green come opera o come opererà abbiamo ancora quattro minuti dell'intelligenza artificiale allora sicuramente nella famosa agenda 20-30 sullo sviluppo sostenibile quindi è partita nel 2015 quindi ormai siamo all'ottavo anno hanno aderito ben 150 paesi ci sono 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e qui l'intelligenza artificiale gioca il ruolo del padrone perché sullo sviluppo sostenibile dove ha impatto e ha impatto su grandi tematiche come modelli energetici e climatici capite qui sono previsioni previsioni non solo del tempo ma previsioni di quello che succederà con il continuo innalzamento di temperatura quindi emissione di CO2 agricoltura applicatissima in agricoltura adesso abbinata ai droni diventa uno strumento potentissimo riesce dall'alto a capire se è ora di seminare di raccogliere lo stato di salute dal punto di vista idrico riduzione di sprechi importantissima in base ai rilevamenti ci dice come è possibile ridurre gli sprechi e quindi non è roba da poco però anche in quelli che possono essere decine e decine di come dire applicazioni a noi sembrano banali ma mica tanto rilevare degli incendi evitando che si espandano come quello che è successo in Australia quattro anni fa quattro cinque anni fa non è roba da poco anche una stupidaggine che sembra a noi la pesca abusiva in mare e se io riesco a beccare chi comincia a fare le pesche abusive vabbè prendo provvedimenti quindi è un campo vastissimo ma dobbiamo temere per il nostro lavoro Umberto siamo in chiusura dove la I batte l'uomo e viceversa è velocissimo la I batte l'uomo l'abbiamo detto prima la I porterà via lavoro e si porterà via lavoro come ha portato via lavoro l'avvento del treno che ti guidava le carrozze ha dovuto cambiare l'avvento delle macchine dei telai a vapore e così via certo quindi l'abbiamo detto prima tutti i lavori ripetitivi le analisi tutti i lavori che hanno bisogno di algoritmi trend e questi sono lavori che si convertiranno diciamo non è che l'uomo sparisce ma verranno convertiti e poi non dimentichiamo che questa bestia fra virgolette questo lavora tutto il giorno opera H24 quindi come dire non mangia non ha elettricità e basta Umberto per concludere quindi dove l'uomo batte la I e dove la I batte l'uomo e quindi se e come ci ruberà il lavoro vogliamo sapere Sì allora direi che non c'è dubbio l'uomo batte la I in tutti i lavori e in tutte le parti diciamo di organizzazione dove ci vuole creatività capacità artistiche empatia eleganza adattamento perché la I è tutto meno che adattativo e direi anche bellezza nel senso che la I non ha questo concetto del bello e invece come dire ancora una volta la bellezza sarà uno dei argomenti che ci salverà quindi fiducia massima assolutamente bene ottimo messaggio positivo perché si è creato un hype come sai anche questo particolare messaggio positivo concluderei lasciando questa slide che è molto molto bella a me piace molto perché come dire qui c'è proprio la dicotomia uomo quindi ragazza che va in bicicletta ma come andrà in bicicletta andrà in bicicletta con un visore 3D che le indica la strada le dà tutte le valutazioni del percorso e così via quindi parola d'ordine è condividere e convivere cioè stare insieme bene, grazie grazie mille grazie a Umberto Torelli giornalista grazie a voi grazie a tutti